Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare una sfida in arrivo in Fortnite con la settimana 5 che richiede di danzare con gli Stark, cioè fai un ballo Robot Stark. Ora, questa sfida potrebbe essere mal interpretata perché personalmente all'inizio pensavo di prendere la granata ballerina lanciarla sui Robot Stark e completare la sfida, ma in realtà non è così. In realtà dovete usare un emote con gli Stark, ma prima di fare questo dovete aggerarli. Ora, gli Stark, i Robot, si trovano sia alle Stark Industries, qui, che dove ci sono le colonne di fumo. Io personalmente consiglio le colonne di fumo perché alle Stark Industries ci sono veramente tanti giocatori per via delle varie sfide. Quindi, la prima cosa da fare è atterrare dove c'è una colonna di fumo. Ma prima di fare questo procuratevi un'arma perché altrimenti rischiate di crepare appena scendete. Quindi procuratevi un'arma perché dovete hackerare i Robot presenti. Non ne basta uno, cioè quindi deve essere libera la zona per capirci. Quindi, ora che abbiamo l'arsenale, andiamo dai Robot Stark. Curiamoci. Non si sa mai che ci siano altri giocatori. Ok. Dovete praticamente eliminare tutte le minacce in modo di hackerarle poi tutte e quindi non avere più problemi e usare un emote. Dovrete far ballare i Robot della Stark che, essendo hackerati, vi ubbidiscono. Quindi, atterrate tutti i Robot, ragazzi, e poi vi hackerate con calma. Sempre se non vengono altri giocatori a rompervi le scatole. Ok. Ok. Ecco, ce ne sta un altro. Se riesco. Ok. Adesso li hackeriamo. Speriamo che non viene nessuno. Ok. Ne manca qualcuno. Ok. Ne manca uno. Ora che sono tutti hackerati, quindi tutti alla vostra mercè, come si suol dire. Ecco, è arrivato un giocatore. Ammazzate prima il giocatore, altrimenti non potete fare la sfida. Ovviamente, figurati se non veniva un giocatore a rompervi le scatole. Ok, se ne sta andando, spero. Vediamo se funziona. No. I Robot sono concentrati sul giocatore, quindi non posso fare nulla. Ok. Appena si liberano, non riesco più a muovermi, ragazzi. Grande. Il lag di Fortnite. Ecco. Venite qua, ragazzi. Niente, ragazzi. Scusatemi, ma resta bloccato. E il lag praticamente non mi fa muovere. Grandissimo. Le bellezze di Fortnite. Ok, non mi posso muovere, scusatemi. Ok. Eccoli qua, ragazzi. Venite qui. E ballate. Vedete? In questo modo completate la sfida. Scusatemi, ma resta bloccato. Scusatemi, ma resta bloccato. Scusatemi, ma resta bloccato. Scusatemi, ma resta bloccato. Grazie.